Perdura la recrudescenza dei possibili episodi di violenza, microcriminalità e schiamazzi nella zona tra Piazza del Perugino e Piazza Garibaldi. Il Comune di Trieste dunque ha deciso di prorogare l'ordinanza antidegrado fino al 1 novembre, ricomprendendo cioè anche Barcolana e Halloween. Originariamente il provvedimento era in vigore dal 1 agosto fino al 14 settembre. L'ordinanza prevede nell'area compresa tra Piazza Garibaldi, Viale d'Annunzio, Via Limitania, Donadoni, Matteotti, Manzoni e Pascoli, la chiusura dalle 23 alle 6 del mattino dei pubblici esercizi, delle attività commerciali con vendita di alimentari e dei distributori automatici. Dalle ore 22 alle 6 è vietato a chiunque di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro, ma anche lattine di alluminio su area pubblica o privata a uso pubblico. E' fatta salva la consegna a domicilio, limitatamente al trasporto e la somministrazione da parte degli esercenti pubblici di bevande a favore dei clienti che usufruiscano delle eventuali strutture fisse o mobili, quali sedie, tavolini, poggiagomiti all'esterno dei pubblici esercizi. Per il vice sindaco di Trieste, Serena Tonell, la proroga è stata determinata dalla necessità di tutelare i pubblici esercizi in regola che potrebbero venire danneggiati da quelli che non lo sono. Il Comune di Trieste sta anche pensando a una futura possibile estensione del provvedimento a Piazza Libertà, dove perdura il problema dei migranti. Ciò verrà deciso nel prossimo Comitato Ordine e Sicurezza in Prefettura.